Saltata la proroga al blocco dei licenziamenti nel decreto sostegni bis per i sindacati, ora lo scenario che si presenterà a partire dal 1 luglio avrà i contorni di un vero e proprio disastro sociale. A rilanciare l'allarme è Carmine Ranieri, segretario generale della CGL per Abruzzo e Molise, preoccupato per la possibilità che l'Abruzzo possa perdere tra 12.000 e 17.000 posti di lavoro, secondo le prime stime. Passato il picco dell'emergenza sanitaria, ora dunque potrebbe aprirsi una nuova piega sociale ed economica, non meno preoccupante della prima. Secondo le stime di Banca Italia e Ministero del Lavoro, in Italia si potrebbero perdere oltre 570.000 posti di lavoro con la fine del blocco dei licenziamenti. In Abruzzo la situazione sarebbe ancora peggiore se noi consideriamo che l'Abruzzo è una delle regioni che ha utilizzato in maniera più ampia la cassa integrazione, siamo a più 1.400%. E anche a livello dei posti di lavoro già persi, nell'arco dell'anno 2020, stiamo parlando di oltre 9.000 licenziamenti, è stata una regione già pesantemente colpita. Motivo per cui noi prevediamo che in Abruzzo ci potrebbe essere un numero di licenziamenti superiore alle 12.000 unità. Questo, ripeto, rispetto alle più di 9.000 che abbiamo avuto nel 2020, sarebbe una catastrofe sociale per l'Abruzzo. D'altra parte non riusciamo a capire per quale motivo, mentre da un lato giustamente continuano i sostegni alle imprese che sono giusti e necessari in questa fase difficile, si decide comunque di non prorogare una misura a sostegno e a tutela dei lavoratori. Noi diciamo che finché dura l'emergenza è necessario sostenere i lavoratori e le imprese, sperando che la domanda riparta e quindi dal mese di novembre, dalla parte finale dell'anno, possiamo ricominciare con una certa ordinarietà. Tra l'altro in questa fase, a perdere i posti di lavoro, sarebbe ancora più grave considerato che il governo sta studiando, ma ancora non viene presentato, una riforma sugli ammortizzatori sociali. Riforma necessaria per non lasciare le persone a piedi, dare a loro un sostegno economico, ma indirizzarle verso una formazione adeguata e delle attente politiche attive del lavoro, perché le persone possano essere ricollocate. Grazie.